Le demolizioni degli impianti del corriere di Sergola vanno avanti a scoprire il corso di l'ultima cadere, sollevando una nuvola di polvere di carbone, è stata la torre del nastro di caricamento dell'alto forno, il sistema che permetteva di alimentarlo con il carbone per produrre il COC, minerale, quello caduto a terra, probabilmente più vecchio di molti centenari. Le procedure vanno avanti osservando le regole previste dall'accordo di programma, anche se rimane un vulnus, ovvero non c'è ancora una vera e propria autorizzazione in materia del Ministero dell'Ambiente, che però monitora da vicino la situazione e ha chiesto chiarimenti che attraverso quella che è stata battezzata una conferenza dei servizi a sincrona sullo stato dell'arte. Insomma, l'ok arriverà, ma serve cautela e un monitoraggio costante delle operazioni che viene fatta in un'altra nuova fase di inquinamento, anche se circostrista. Ecco il perché del sopralluogo edierno a terra e in mare, di tecnici di regione, ARPA, Autorità Portuale e Capitaneria di Porto, un punto della situazione necessario per capire e correggere anche eventualmente in corsa le demolizioni. Si procede di volta in volta con l'irroramento degli idranti, con una precisa serie di abbattimenti senza l'utilizzo di dinamite o esplosivi, come si fece invece a Genova per dismettere gli impianti e l'altoformo dell'Ilva, proprio per contenere il più possibile la diffusione delle polveri conseguenti alla caduta dei manufatti siderumici.